A Ponte San Giovanni il bar della stazione è stato visitato dai ladri per la terza volta in due settimane. Un furto è stato fatto il primo di marzo, il secondo venerdì scorso e l'ultimo la notte passata. Questo accade anche perché la stazione di Ponte San Giovanni resta di notte in balie di teppisti, ladri e tossicodipendenti. Chi vuole ripararsi dal freddo e cercare di dormire nella sala della biglietteria frantuma i vetri delle porte e si sistema dentro. La mattina sul pavimento della sala d'ingresso c'è praticamente di tutto. Per la stazione sono stati promessi lavori importanti che vanno dalla sistemazione della struttura alla costruzione del sottopassaggio per l'accesso ai binari. Per il momento però alla stazione manca tutto. L'edicola dei giornali è chiusa da ormai due mesi e non si sa se riaprirà. L'orologio che era all'ingresso è sparito. Come si sa non esistono pensilini ai binari e l'attesa dei convogli avviene sotto la pioggia, la neve, nel freddo ed estate sotto il sole cocente. Per quanto riguarda il furto di questa notte i ladri hanno operato indisturbati anche se a quanto pare nelle vicinanze del bar c'era una squadra di operai che operavano un intervento di normale manutenzione. Questi operai non si sono accorti di nulla. Poca comunque la refurtiva. Sembra che i ladri si siano infatti accontentati di prendere delle sigarette ma non avrebbero sottratto soldi.